E adesso cambiamo argomento e parliamo di istruzione. Si è concluso il primo obiettivo dell'ITS Emporium del Golfo, ovvero la consegna dei diplomi dei tecnici specializzati nel settore agroalimentare. Ascoltiamo le interviste. Abbiamo conseguito i primi diplomati dell'ITS Emporium del Golfo, del settore dell'agroalimentare e del marketing. Abbiamo consegnato oltre 40 diplomi di istituto tecnico superiore a persone che già hanno proposte di assunzione a tempo indeterminato. Quindi siamo davvero molto soddisfatti perché finalmente possiamo offrire qualcosa che non esisteva nel territorio di Trapani, soprattutto della Sicilia occidentale e del settore dell'agroalimentare. Tutti questi corsi consentiranno di avere crediti all'università per chi vuole continuare, ma avranno anche la possibilità di spenderli nelle aziende perché è un curriculum ricco e a garanzia di successo nel mondo del lavoro. Io sono uno studente lavoratore e ho pensato di iniziare questo corso per accrescere le mie conoscenze. Devo dire che la squadra di docenti, tutti i docenti universitari, ci ha proprio portato a conoscere, a mettere in campo tutte quelle nozioni sull'agroalimentare e tutte quelle innovazioni nel settore agroindustriale. Mi hanno parlato di questo percorso formativo e mi sono approcciato perché comunque, e poi ho avuto ragione alla fine, perché potevo allargare le mie conoscenze tecniche riguardo i prodotti che ho sempre venduto perché io sono un venditore di prodotti alimentari. Mi mancava quella parte tecnica che comunque è importante anche per raccontare il prodotto in tutti i suoi aspetti. In molti casi sono ragazzi che già svolgono una propria attività nell'ambito dell'agroalimentare. Quindi acquisiscono nuove competenze o come meglio produrre nel loro ambito di appartenenza. Assolutamente, fra l'altro si è puntato molto sulla innovazione, che è una cosa fondamentale per il futuro delle proprie aziende. Devo dire che sono rimasto molto sorpreso della loro preparazione. Ho visto ragazzi veramente preparati e innamorati della loro attività e del percorso di studi che hanno fatto. La differenza fondamentale è la forte interazione che c'è con le imprese. Significa che le professionalità che escono fuori da questa scuola sono le professionalità richieste dal mondo del lavoro e che facilmente possono trovare un match con i diplomati di questa scuola. In più i ragazzi potrebbero acquisire dei crediti formativi qualora cambiassero idea per andare all'università. Questa è un'altra possibilità naturalmente perché ci sono dei ragazzi che all'inizio non pensano di iscriversi all'università ma una volta avendo la possibilità di aver acquisito crediti e soprattutto avendo capito che quello è il percorso che vogliono fare ridiventano studenti delle università ed è un guadagno per tutto il circuito sia per le imprese che trovano professionalità sia per le università perché recuperano studenti che non pensavano di iscriversi all'università. Questi due interessanti percorsi che in questa provincia trapanese sono particolarmente importanti perché sono incentrati sull'agroindustriale naturalmente e su tutta la filiera agricola in particolare il vino ma su tutta la filiera agricola. E soprattutto danno la possibilità dell'innovazione di questo settore. È chiaro, l'agricoltura esattamente come la conservazione dei cibi, non solo l'agricoltura ma anche la pesca insomma tutto quello che ha a che fare con la filiera alimentare ha bisogno di innovazione ha bisogno di innovazione perché i prodotti vanno conservati meglio, perché si deve sprecare meno perché si deve avere un atteggiamento migliore rispetto all'ambiente perché non si devono produrre eccessivi rifiuti o almeno riutilizzare. Ecco, in tutto questo mondo ovviamente c'è tanto spazio per l'innovazione.